Buongiorno, voglio leggere una bellissima dichiarazione d'amore del sindaco di Bacoli alla sua città. È una cosa appassionata, bellissima, veramente mi ha dato grandissimo piacere d'emozione a leggerla e ve la leggo così come l'ha scritta lui. Sindaco, ma chi te lo fa fare? Mi scrivete spesso così, a volte me lo chiedo anche io, poi dopo giornate ricche di impegno per la città mi capita di guardare alla finestra e trovo questo spettacolo e allora capisco che ne vale la pena, ne è sempre valsa la pena perché abbiamo l'onore di vivere in uno dei luoghi più belli del mondo e lui posta una bellissima fotografia della sera a Bacoli dalla sua finestra dell'ufficio al comune. Continuiamo E difendere questa meraviglia con ogni forza, con immutata passione non può essere solo una scelta, ma è anche un dovere. Sei bellissima, terra mia. Essere il tuo primo servitore è l'onore più grande, ieri e adesso per sempre. E questa cosa bellissima alla fine mi ha fatto scendere un po' di perplessità. Sindaco, hai scritto una cosa così bella, hai messo una fotografia bellissima. Ecco, ora che ci ripenso, si vede in primo piano dalla finestra aperta la bandiera che sporce fuori alla finestra o fuori al balcone che sia, non lo so. Poi vuoi finire questa cosa bellissima con essere il tuo primo servitore è l'onore più grande. Sindaco, hai sempre la cosa che devi strafare per forza. Sarebbe stato anche bello essere il tuo servitore, essere il tuo ultimo servitore, sindaco. Sarebbe stata bellissima, avrebbe dato anche il senso della tua umanità, del tuo voler essere figlio di questa città. Invece questo voler essere comunque pure servitore, ma il primo servitore, è una cosa che anche se l'hai fatto involontariamente, evidenzia quel tuo voler essere rappresentato e rappresentarti tu stesso per forza come il primo. Tu sei il primo cittadino, ti deve bastare questo, non lo devi strombazzare, non te lo devi lasciare sfuggire. Tu lo vedi, sindaco, io come voglio bene a te a nessun altro sindaco. E sto cercando di aiutarti per farti correggere alcune tue posizioni, alcuni tue modi di fare, perché io ritengo che tu potresti diventare un grande sindaco. Non mantenerti piccino, non restare piccino. Comunque, passiamo ad altro. Parliamo del Giro, il Giro d'Italia, sindaco, molto brevemente, perché questo sabbatale lo voglio fare veramente meno prolisso del solido. Sei entusiasta anche tu, anche sul Giro dei Canti, le bellezze di Bacoli e tutto il resto. Il Giro passerà cinque volte, passerà per Bacoli, ritorna la tappa a Bacoli. Non eccedere nelle cose. Sono cose belle. che decantare il tuo paese, decantare la tua città è bellissima, è naturale, perché Bacoli merita di essere decantata e soprattutto essere decantata da tutti noi, i suoi figli, sia figli naturali, diciamo così, che figli acquisiti successivamente. Allora, questo Giro si è anche un poco più aperto, un poco più fraterno con gli altri sindaci della zona, che insieme a te hanno perorato. C'è stato un grande lavorio, lo sappiamo, avete anche lavorato insieme, lo sappiamo. Però, sindaco, se si fossero evitate certe sgomitate, parlando di Giro, sai, quando si arriva in volata due o tre persone o anche solo due, due soli corridori e vogliono vincere a tutti i costi, che si danno anche delle sgomitate, che si tagliano la strada. Sindaco, io avrei saputo che forse, forse è successo questo anche e ancora una volta, tra te e qualche altro sindaco, tra Bacoli e qualche altro comune, avete perorato insieme, è vero, come istituzioni vi siete uniti insieme, siete andati alle riunioni insieme, perché forse si doveva fare anche per forza, però era positivo. Ma al momento del dunque, quando la tappa poteva fermarsi qui, poteva arrivare qui, da noi, lasciamo perdere Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli, sarebbe stata una cosa bellissima se fosse arrivata da queste parti. Abbiamo un poco tutti sgomitato, perché, ma sai, a Monte di Procida questa tappa arriva là, c'è San Miezavi a 7, che c'è 50 metri via Roma, non c'è un rettifilo bello dove può arrivare questa corsa. E poi a Monte di Procida non c'è una grande attività, non c'è una grande recettività turistica, alberghi, invece Bacoli c'è una parecchia, e poi abbiamo un bel rettifilo, il Lido Miliscolla è una bella via, là potrebbe arrivare benissimo, e poi questo, e poi quello, e poi quell'altro. Invece di dire, come dici poi in altri passi, come dici dopo, però nel dunque, quando si discuteva, non risulta che tu hai perorato più la causa della zona flegrea. Si vede proprio come tu lo enunci, il tuo giro di Bacoli. Il circuito di Bacoli e Monte di Procida si ripeterà 5 volte, passerà davanti qua, passerà davanti là. Sindaco, devi evidenziare tutto quello che c'è tra Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida, devi evidenziare tutto, perché l'uno senza l'altro non esistono. La zona flegrea è un unicum, soprattutto Bacoli e Monte di Procida, è un unico promontorio. L'antica Misenum, la Miseni Misenorum, non era, perciò si declinava anche al plurale, soprattutto al plurale, Misenum non era una città e basta. Miseni Misenorum, c'erano molte Misenu, c'era la città di Misenu, c'era il porto di Misenu, c'era il promontorio di Misenu, c'era il monte di Misenu, c'era la marina di Misenu, c'era la scuola militare di Misenu. Misenu era una grande città, non solo militare, ma anche residenziale degli antichi romani. Quindi non era il Poggio, non era Baia, era un'altra grande città a parte. Però non ti scordare mai che Bacoli e Monte di Procida sono un unicum. E non da retta se sono due comuni, se qualcuno ne voleva fare addirittura tre di comuni. Non stare a sentire chiacchiere. Aiuta tu, la tua città, condividendo con le città limitrofe, soprattutto con Monte di Procida, ma anche con Pozzuoli, tutti quelli che sono i pregi della città e condividi soprattutto quello che si può ottenere tramite un lavoro fatto insieme. Le sgomitate non servono, servono solo ad allontanarci. Che cosa è successo? Che sgomita tu, che sgomito io, la TAP non arriva a Monte di Procida e non arriva manca a Bacoli e non arriva manca a Pozzuoli. La TAP parte da Napoli e torna a Napoli. Ma tu ci pensi? Se la TAP fosse arrivata a Bacoli sarebbe stato bellissimo. Ma non poteva arrivare a Bacoli, si era detto a Monte di Procida. Non mettere il bastone tra le ruote, non dicere mezze parole che possono danneggiare il lavoro che si fa. Perché se il giro fosse arrivato a Monte di Procida, con i pochi alberghi che ci sono a Monte di Procida, Bacoli sarebbe stata zeppa comunque di persone, di girini, di giornalisti, di persone al seguito che avrebbero riembito tutti i locali di Bacoli. Si riembiranno pure, ma non è lo stesso, tu lo sai. Io mi ricordo nel 77, tu dici, non eri nato ancora. Io ero ragazzo dell'età tua forse, anche forse più giovane di come sei ora tu. Però ricordo benissimo che Bacoli fu un brulicare di attività, di presenze di giornalisti, di dibattiti anche a Monte di Procida, dibattiti giornalistici ad alto livello. Sono state cose bellissime che si ricordano nella storia. Ricorderemo anche questo giro. Peccato che non possiamo ricordare per le nostre sgomitate. Sindaco, le nostre sgomitate. Non abbiamo potuto avere la tappa che arrivasse qui, in questo grande promontorio che la storia ci ha dato come nostro, come nostra unica città. E che noi ancora non vogliamo capire. Perché vogliamo essere sempre i primi. Sindaco, il primo servitore, il primo servitore. Non sei il primo servitore. Devi essere l'ultimo servitore. Se no, non li servi i tuoi cittadini. Mi fai venire in mente quella, diciamo, non è una parabola. Mi riferisco al miope. Soffri di una miopia spirituale, una miopia egocentrica. Se te la curi, ma ci vuole una grandissima volontà, non ci sono medicina. Se te la curi diventi il più grande sindaco di Bacoli. Questa miopia ti fa vedere solo vicino e lontano non ti fa vedere. Stai a Bacoli, ti fa vedere solo a Bacoli, non ti fa vedere niente, ti fa vedere solo Bacoli. Stai al Comune, ti fa vedere solo il Comune. La gente fuori non te la fa vedere. Stai nel tuo ufficio, ti fa vedere solo il tuo ufficio. Non ti fa vedere gli assessori, i consiglieri, la gente che ti critica, li cancelli. Ma perché li cancelli la gente che ti critica? Rispondi a quelli che ti criticano, sindaco. Che tu cancelli a uno che ti critica, non ne hai fatto niente, lo esasperi di più. Anzi, ricerca le critiche per migliorarti. Sindaco, noi ti vogliamo migliorare. E la sfida tra noi e te è questa. Non resistere al tuo egocentrismo. Curati la miopia spirituale che hai. Guarda fuori, affacciati. Trovi gente che ti vuole parlare. Ti vuole porgere la mano. E vuole che tu porga la mano a loro. Queste persone non si aspettano altro che di parlare con te. Di discutere con te. Porgere la mano. Non è solo dare o solo chiedere. È l'uno e l'altro. È incontro. Allora, porgiamoci la mano. Sindaco, noi dovremmo aiutare. Però ti aiutare prima tu. Ciao.